Fai un po' di live in giro Riva 3 live, oh ok X, condividi Versi molestia, perché sono io che sto cercando di soffiarmi il naso Dai dai, mandiamo un po' la gente Adesso la rinvio Perché non sono abbastanza contento di shippo Ok, inviamola Via, invia Un po' si invia Sto cercando di spammarmi un po' Invia, invia Invia Ok, ho inviato tipo 15 persone, spero basti Mi spiace ma non posso Sanquillo Allora, allora, allora Vai, vai, l'ho inviato un po' di persone In teoria dovrebbe arrivare almeno una o due persone Che mi scrivono, che mi tengono compagnia qua Mentre sto solo Sì, è arrivato qualcuno Ciao Gigo Ciao Ma Gigo che ora chiedi C'è quanto puoi rimanere qua? Io e due persone Chi sei seconda persona? Poco Poco credo Ok, adesso inizio a farmi Partite Che così almeno mi tenete compagnia Vabbè, dai La seconda persona non si vuole identificare Non si sa chi è È una seconda persona che mi terrà compagnia oggi Qua c'è nel negozio oggi, no Nel negozio Eh, vabbè, ci sono tutte robe Uffa, che palle Ci sono tutte robe che costano così oro Oh, oh 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 Ciao Luca, da quanto tempo Eh Luca quello che giocavi con la Forne se ci giocavi Ciao Luca Spero sei tu in live Che così discutiamo un pò di dove sei finito eh non c'è più nessuno mi hanno lasciato solo vai credo mai mi compro la soundboard che così posso fare vai best a niente copyright mi raccomando ecco qui ci dobbiamo prendere confie nuove certo che sicuramente preferisco confie così che hanno due lati da sentire il microfono piuttosto che questo che c'è un solo lato che il buco gigante giga enorme vai oggi cercherò di stare in live un po' di più se non largo se la live non mi trascia forse riuscirò ok carabina un po' di più attacca è venuto di qua sto qua chi sta sparando? eh sei via amico mi dispiace ma non posso finirti a prendere sordami ah è vero sono caustica pensavo già di essere pathfinder ciao bello io scappo no 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 in due ecco tutto lo sapevo il prossimo che è lo scudo sto arrivando amico sto arrivando a salvarti io vieni qua amico mi stanno facendo anche ok adesso ritorno lì dentro un attimo in party che ho abbandonato perchè stavo laggando e adesso ritorno ok mattia però ha dovuto andare a mangiare dopo una riunione quindi bocchi minchia ne so caglio stai facendo troppe domande mi stai dando fastidio io ai cazzo stai facendo troppe domande non si rimane col tuo col tuo dubbio non si rimane colpo allora perchè fai per di tante domande Sì 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 oh mio no 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 lì c'è dove andare ah, i nostri compagni deve rinchiare ah ok, i nostri compagni sono già morto non per lui ah, beh, si, lui ha già trovato la pompa ah, beh, si, lui ha già trovato la pompa da scherzi va ti pare lui ha pro e lo scompagno pure dai che oggi forse arriva di livello 100 normale dopo la psichicodo non ci vediamo che ci vediamo che mi sono preso non sa che non mi sono preso non, ma che mi sono preso potta invito potta invito è vero che ci sono è così io vado di qua che gioco mi ci fa andare grazie Grazie a tutti 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 Una Grazie a tutti 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 Come scusami? Eh, un mio amico mi ha detto che tra qualche giorno inizia a fare video di gameplay su non so cosa, però su YouTube. Ah, minchia. Comunque dopo, infine live, ti taggo, Mattiette, su Instagram. Non ho capito, mi? Taggi su Instagram, cioè metto il tuo profilo di Instagram. Perché ho visto che ieri, mettendo solo la chiocciola, non eri venuto fuori. Quindi io adesso vado sul tuo profilo, faccio condividi e lo condivido sulla mia live, come descrizione. Vai, 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 duro. Quindi loro basta che cliccano là, si apre Instagram e ti trovano subito. Le otto, le campane suonano. Comunque sono già entrate tre persone diverse, in mezz'ora. Sì. E c'è dieci iscritti. Ma è buono? Eh, secondo me è buono. Perché comunque tre persone diverse e 17 messaggi in mezz'ora. Vabbè, anche per ora sono amici, quindi mi vedono anche a scuola. Ma però pian piano. Eh, appunto, pian piano. Cioè, l'altra volta che mi sono fatto due ore e mezza, c'erano entrati sette persone diverse. Da un minuto buono, sì. Adesso poi mi scrivo anch'io in YouTube. Vai, vai, quindi ho 11 iscritti con te, Mattia. A terra. Lì non ho veramente niente. Vai, Mattia, prendo i cazzotti. Vai, curami, 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 curami. Curami. No, curami, Mattia. Ma qua non vedo. Curami. Eh, vabbè, sì, minchia. Ok, bravo, Mattia, curami. Minchia, Mattia, sei pro oggi. Eh, vabbè, sì, è entrato lui con le armi. Eh, minchia. Minchia, io non ho... Cioè, è arrivato qua, era il devasto, figa. Va bene, vai. Mi piace come partita comunque, perché in teoria mi sono fatto 100... 110 di danni, perché mi sono anterrato un tipo e mi sono fatto una kill. 191 di danni. Gli a pugni, porco, due. Sì, ma quella volta che mi sono fatto tutti i tipi a pugni è stata una roba epica. Ma tanto epica. Vabbè, minchia, ci credo. Cioè, mi sono fatto un intero team a pugni, loro tre mi stavano cercando i tiai cazzotti, o pugno, calci, già atterrati, stesi. Sì, sì, perché eri già in partita, è solo che... Comunque, comunque, comunque. Tu domani mattina, che ora è che finisci il lavoro? Domani è un problema, domani. Dammi a cui dì un po' è perché domani mi arriva la camera... Ah, ok. ...una cosa nuova. Ok, ok. Tranquillo, tranquillo. Sì, sì, tranquillo, ti capisco. Sì, sì, capisco. Tranquillo. Mi piacere proprio dalla prossima settimana, sono super tranquillo. Eh, so che quando devi fare lavori, cioè... Ah, no, ma poi do... Sì, quando sei impegnato, sei impegnato, non ti posso più di giocare. So che è matte, non si fa vivo da... ...ieri il pomeriggio. Però lui oggi non è venuto... Cioè, non so se è andato a scuola oppure è venuto a casa mia. Però, boh, Dio, di solito venia a casa mia e salutava. Oggi nulla, cioè, non so, non l'ho manco visto prendersi a bici, perché lui si parcheggia a bici qua fuori. L'ho manco visto prendersi a bici, quindi... Boh, non so dirti che fine ha fatto. Forse sta male, perché comunque anche lui aveva mal di gola, mal di testa... Ah, bene, ti amo qua. Sono cazzo. Eh, lo so perché ci sono almeno, almeno, 6-7 tiri di parti. Conque dopo Mattia, ti manda anche il video del mio amico. Ma vaffanculo, l'unico posto non ci sono... Ma sottotitamente, cazzo. Dove andai giù, dove andai giù. A terra uno. Ah, io sono sceso perché mi stanno massacrando. Ok, a terra. Tu provi a tirare il mio amico del cazzo. Mi fanno calcare il mio amico e arrivo. Mi chiamo ancora trattata un'arma. Mi chiamo, ti aiuto a dar colpi. Mi non neanche un'arma. Sottotitamente. Un culo. arrivo mattia lasciami tempo che mi cura ma che figli di puttana quanti sono? hai due? io porco porco figli di puttana ah tu sei dall'altra parte mi hanno fatto non venire ti guardo mi chiesto andando dal compagno perchè penso così tu va tranquillo morto anche lui a terra dai fighezza ancora entra da sotto forza che mi cura calcati lo scudo sta arrivando prendo lui e arrivo vabbè vabbè mi sono venuti da me no no non venirebbe per me non esiste sto arrivando mattia è come ti ripeto lui era il figa mi giro dietro di me sempre sempre così entro in una casa non c'è nessuno entro e faccio due passi dietro di me sicuro vabbè dai andate così con la P2020 mi sono fatto una kill cioè due perchè uno l'avevo atterrato però l'hanno rianimato eh ma l'hanno rianimato l'altro l'hanno rianimato l'altro l'hanno fatto con l'Mlock però io avrei tre kill perchè uno mi sono fatto atterrato però l'hanno curato e non lo trovavo più comunque mattia per me lascia stare non esiste io vengo anche se devo morire si no no eh ma ti prendi un po' ero un po' lontano per stare per scadere il c***o inutile no no eh si io stavo correndo anzi ora mi prendo Octane che così corro ah merda se ti sparano che tu non hai niente vaffanculo è vero però vabbè lo scompagnare a Pro poteva fare tutto lui da solo non c'è nessuno mi sa ah no ce ne sono solo noi due ah batti ho appena fatto 100 kill non c'è un po' di vittoria e ne sono 4 eh io ne ho 3 di vittoria con il caustic però mi sono appena fatto i miei 100 kill in stagione 1 con caustic vengia buona però con caustic si perchè io inizio a usare un po' tutti i personaggi dove andiamo boh ti lascio scegliere te ora andiamo un po' dove hai puntato ok sa che è di gente però vabbè vabbè dai capitale comunque ogni tanto quando ti dico dove hai puntato è perchè non vedo questo puntino giallo perchè c'è il colore c'avevo sto raggio blu e non vede un punto giallo quindi ti ho visto dove dopo un po' girando ho visto questo puntino giallo faccio che io non c'è così tanta gente mi piace quando mi dici così sia un po' qui sembrarebbe sembrarebbe poi secondo me eh mi stavano già per uccidere mattia ah ecco non ci sono le gambe non ci sono che non ci sono scopla che medagini ericci non ci sono che non ci sono sì è è comunque si c'è gente c'è io me lo so che ha atterrato uno da la cazzo che tira cosi sono davanti a mano tira cazzo che cazzo cazzo che cazzo ecco mattia arriva arriva io ho fatto il tempo la gas vabbè si vai cura no vai mattia stanno prendendo danno eh vabbè minchia ti fa un culo eh io avevo solo triple take tagna a curare eh lo so però io avevo solo triple take non ho potuto fare nulla triple take e la pistolina e capisci che se ti push non è che poi fai tanto soprattutto una write che può diventare invisibile e tu non puoi vedere vabbè vabbè io ho terminato il tempo con write se no anche ora la starei usando perché comunque sono cresciuto con write vabbè vabbè forte io non so tanto capace usarla sì che poi è appunto di anche sapere usare i movimenti però una volta imparato fidati che è forte perché tipo una volta non so se stavo giocando con te però so che c'era matte e tipo c'era un tipo che stava sparando matte aveva atterrato matte matte fa aiuto ragazzi mi sta per finire io gli faccio giro da dietro e io matte arriva insieme perchè io con write sono riuscito a diventare invisibile a fargli in giro da dietro e arrivargli da dietro poi ti dico la wigman è forte hai tutti potenzialmente una bomba eh se la sai usare sì eh sì cioè io ti dico che ho provato la skin quella leggendaria e molti dicono che con quella skin riesci a fare più hit perché eh praticamente quei cosi l'ha elato non sono così tanto spessi quindi tu puoi vedere il movimento del player e hanno ragione perchè io una volta l'ho provata e ci hanno riuscito cioè sono riuscito a fare cinque kill su wingman poi ci sono alcuni che poi dopo ci sono alcuni che da qua a qua ti fanno headshot quello non c'è da mettere in dubbio cioè tu sei qua non li vedi loro headshot 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 e ti atterrano va bene no vai bene si ma è culo eh ogni tanto ci sono dei bug secondo me no vabbè non è culo secondo me sono proprio hacker perchè comunque ci provano ad hackerare tutti i giochi anche Apex si no vabbè certo a che ne esci un gioco cerchiamo di hackerarlo su eh quindi secondo me aimbot la prende una wingman fai pam 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 tre colpi a certo a terri uno pushy toglie subito la hack viene di gente di nuovo anche qua e basta di non sono altro qua c'era uno qua c'era uno qua c'era una diciamo qua c'era qua c'era qua c'era qua c'era ok c'era qua c'era non ti finisce ora attento attento vabbè minchia non avevo più colpi senza colpi immaginavo eh cazzo ti ho sprecato tutti i colpi per cercare di colpirlo mentre ti stava facendo l'ulti che poi volevo anche tirare una gas trappola però non ci ho fatte perché ne avevo tutte e tre sprecate per fare una camera a gas per un tipo perché sei bunkerato e hai presente la lifeline sì ecco gli ho fatto camera a gas ah sì sì l'hai chiusa dentro gli ho piazzato una davanti e due dentro è morta ma senza proprio eh senza discutere non poteva uscire è morta ma te puoi scegliere di fare l'ulti eh sì se ti è pregunto colato ah e dopo una volta non puoi più toglierla ah ecco e quando ho visto lui a terra e se tu gli spari tu la puoi interrompere ah infatti mi sta per uccidere e poi eh l'ho interrotto sì perché se tipo lui ti sta facendo l'ulti beh questa è quella buona l'esecuzione se tu gli spari al personaggio la puoi fermare però c'è una con Mirage che tipo c'è lui c'è un suo ologramma che lo colpisce alla fine si vede che è un ologramma in quella là ah se tu gli spari un ologramma eh non lo puoi colpire e anche Wright che tipo crea tutti quei portali per colpirlo in quella non lo puoi colpire ah ecco quindi sì ci sono alcune che proprio si immedesimano quindi se uno è invisibile cioè usa portale non lo puoi colpire come se avesse portale certo vai dove eh stavolta voglio vivere un po' di più eh sì sì ma anche io io direi un la un un base aerea io direi esatto che poi ogni tanto vado anche scatti però dai è giocabile comunque sì c'è un team perchè vedo il fascio arancione davanti a noi subito andiamo là ecco lo sono dalla nostra parte opposta e c'era anche uno sotto di noi tu pieno pieno affanculo che ho un'arma subito eh tu hai solo un'arma no 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 mi ha preso affanculo sto piccino le cose energetiche ho madonna mi salvano lui bravo ho 12 colpi però eh ecco qua ecco qua ok ho ucciso appunto me lo faccio ok bravi cazzo non ho neanche cazzo non ho neanche lo zero colpi di di zero se trovate qualcosa o colpi energetici eh che ti servono colpi energetici ah eh se li trovo te punto comunque io ho visto anche pleta davanti a noi quindi ah ma no non ci conviene andare eh senza niente ecco qua sta R45 qual'è l'R45? è la pistola no allora cazzo ok si non è male attenzione cazzo 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 ok qua munizioni energetiche eh non mi sape più ok perchè ho preso maltrato se no qua c'è un'album di livello 2 mattia arrivo da te eh beh l'ha preso lui vabbè ci sta ci sta vabbè aspetta che vi faccio una benda bella dai quante kill hai mattia una ok quindi una 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 perchè no una l'ho ucciso a pugno anche quello mai sono abituato mattia nato pugile esatto taggio di rambo qua non sembra luttato non sembra arrivo ok non sembra luttato una front line di merda tutte le voci si ah ecco ok minchia sono riuscito a prender ah eric tu pensavo fosse il nostro compagno stavo già per il bestemiglie e non so se mi avevi vincolato questo perchè l'avevo visto era il cascoro no 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 cosa mattia a te serviva no? se ce l'hai già? no ma io intendevo il cascoro ah non lo avevo anche visto eh appunto perchè sei stato talmente veloce che perchè pensavo fossi il nostro compagno uuuu a terra c'è gente c'è gente ok minchia l'ho divastata abbastata di merda sono la mi sparano mi sparano dove? ecco lo sapevo da dove da dove da dove è da distrima divastata 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 giù sta arrivando giù vai bravo minchia mi stavano per stuprare male perchè erano due contro uno erano il sempre di cima ciao mamma mia non le mie amiche ferite mamma mia c'è qualcosa per me? si c'è un battuglio e roba è tipo caricatori leggeri ah quelli non l'ho visto guarda che ti finisce io non sei andato a rianimarlo tu? si si l'ho rianimato io ah ok 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 mattia tu devi capire che il telefono del mio fratello è famoso perchè si rompono pezzi del telefono c'è il comando non so come fa però si rompono pezzi del telefono no stavo rompendo il mio e ci rompendo il mio fratello è famoso perchè si rompono pezzi del telefono mi sa che c'è gente dov'è? comunque mattia monello siamo in live non si dicono queste cose ok capo eh per essere che ti spari vabbè giusto vabbè giusto no comunque siamo in live cazzo che vuol dire? eh che c'ho un pubblico minorenne io quale? io ci siamo io matti no guardi c'è stato i commenti senza non c'è la mia live no sì c'è stato i commenti se non è spesso beh minchia piena di casse e roba vediamo un po' schifo 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 peggio eh penso sia inizio game quindi si ci sta che hanno roba di schifo patate che gli do uno scudino al nostro compagno schifo a me stavano caricatori aumentati eh noi ne ho neanche io ah si ho solo uno no no ti entro se pesante qua si è tutto lottato eh si figlia di nulla blue down ma aspetta che gli ne do un paio lui va ah tu intendi la portai via eh? la portai via no sto ritardato ce la fa mamma mia o è vero un genio cazzo e questi sono i compagni che ci troviamo noi esatto che poi è vero stanchi cercando di comunicare con noi però noi siamo in parti quindi uh scuola più sir dai letto voci senti lì via l'armatura mattia è davanti a te ah davanti all'armatura mi faccio solo uno scudo e attacco eh mi faccio solo uno scudo e attacco eh mi faccio solo uno scudo e attacco eh vabbè figa atterrato cos'è terratto cos'è terratto ucciso grande c'è uno giù in fondo eh devo curare ma mi cd mi cd nooo figa non potevo fare cioè ci stavano chiudendo tra team diversi Deve andare A dopo Ciao Ciao Chiudo l'audio A dopo E' rimasto di nuovo da solo Ce la farò oggi A salire a livello 100 Non si sa Ok Vediamo chi c'è online Forse c'è Matte Non lo so Che fai? Sto controllando se c'è qualcuno su Apex Cosa dura la live? Ehm Sono già un'ora e due minuti in teoria Basta non c'è nessuno Ecco un'ora e un minuto e 40 secondi E quanto vuoi calcolare? Boh non lo so Finchè non mi stanco Ok Tra poco mi prendo a cesto Pacchettiamo opening in live No comunque mi sa che mi terrò Allora 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 usiamo questi Quanti chilo? Eh vabbè Sì 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 è vero no, se non voglio più, non voglio cover il piede no, se non voglio, non voglio allora miei compagni, livello 100, livello 82, 88 kill, 256 kill, 42.000 di danni 36.000 di danni inflitti mi ha fatto 88 kill come è possibile quindi vuol dire che lì stigliano tutte le kill fortunato lui cioè fortunato per modi dire non mi ti stai a me non mi ti stai a me a cosa si chiama mica roba si non mi faccia prende I'm not sure I'm going to die Oh, dai a me come i cura no Oh yeah. ...Might be something good this way. ...Let's explore this way. I need a standards. I need a barrel mod. Heavy ammo here. I suggest we do some research in extended heavy man forget that heavy ammo here I have to go I have to go I have to go I have to go Ah bello Ah bello I miei compagni, lascia stare va, Dio mio, eh vabbè, cosa vuole che ci facessi? Eh vabbè, continuiamo, quanti chi l'ho conosci? 188 kg stagionali, però in tutto il giorno, eh vabbè, l'ho visto. Anche 188 perché l'ho preso da stagione 1. Oh, bello. b uno dei 10 chi paio che non uso tanto quindi un po' reggimento Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Buongiorno. Imi e non 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 che è vero è vero che sia ora che palle sono loro in safety Grazie a tutti 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 Sto sparando per essere cercando di luttare Unico 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 Codio Unico 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 È possibile che ogni volta che succede qualcosa i miei compagni facciano cagare così tanto? Cioè, vabbè, non ho parole. Devo vedere quanto sono arrivato a 138.000 con notti in certa volta. Allora, con costi mi sono fatti tutto, 111 kill, mi sono fatto 132 partite a giocare. Ok, mi manca di fare con Pathfinder, Gibraltar, Glowdown, Bangalore, no, l'ho fatta in teoria anche con Bilash. Ah, no, e anche con 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 1, 2, 3, 4, 5, 5 personaggi su 9. Ok, sì, dai, buono. Ok, in tutto ho fatto 9, più 3, 12, più 6, 18, più 2. Chiudo la live, la riattacco quando ci sarà qualcun altro a giocare. Tanto un'ora e mezza quasi ci sta per una giornata.